impossible te lo dico io cos'è impossibile niente se lo metto abbastanza per sapere cos'è impossibile perchè non volo minchia no credo che questo sia impossibile no no wow wow guarda i backflip del nonno wow vorrei sapere un nonno vabbè non sono un esperto di anatomica ma le gambe non dovrebbero essere attaccate al corpo no sbaglio io ho sbagliato perfetto cazzo oh ok c'ho fatta ok un po' di ball throw what the fuck ok neanche questo è il modo giusto ma fa niente no invece fa qualcosa no 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 posso usare le braccia si merda dove cazzo mi lanci nooo porca ok è molto più impossibile quanto pensassi direi c'è bellissimo oddio oddio no quasi quasi no 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 cazzo no ciao 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 oddio oddio yeah oh è sotto dimmi che li ho fregati ahhhh bastardi oh oh ed E il vetro è andato. Ok. Poi. Con un passettino. E... Boh! No! Merda! Ho ho ho! Ho ho ho! Ok, tranquilli che... Adesso... Ciao! Vuoi che passa la palla? Ok. Vado! Aia, 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 non dovevo andare. Perfetto! Ed è che brecchie! Ciao! Che cazzo è stato? Da! Cos'è questo? Oddio! Oddio! Le mie pupille! Che cazzo è! Ah! Ciaaaaaa! Au! Non so perché l'ospedale ha 5 secondi. Certo, vado avanti. Aia, il mio culo! Ok. Calma! No! 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 Merda! Tu sei stato cattivo! Perfetto! Mmm... Minchia! Eh! Brrrr! No! Perfetto l'ho vista per voi! Ma ce la farò! No! Non si vede un cazzo! Ok. Calma! Devi stare calmo! Con calma! Con calma! Con calma! Merda! Così vedo qualcosa, no? No! 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 Non! Non! Vi chan Kenetti! Ehhh! Cosa! Sura! Ti piace da sotto? Ti piace? Ti piace, sì? Vedo il tuo braccio Lo vedo Aspetta Ok, ora è molto meglio Ho perso la vista al livello precedente Buongiorno Non me ne frega niente quello che dici Ciao Perché avete delle piramidi giganti qui? Aia Ciao palla Lasciami andare per favore Aspetta eh Fa il culo Che cazzo di posto è questo? Ok Devo andare giù Ciao Aia Dove cazzo vivete gente? Aia 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 Grazie a tutti.